Come un branco di lupi che scende dagli alti piani urlulando o uno sciame di apri a canicchie di volatrici di teta di odoranti precipitano roteando come massi d'altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari servitori dello Stato. Non ci siamo capiti e perché mai dovremmo pagare anche gli extra a dei ricogniti. Che cosa possono i reggi dove regna soltanto il denaro? La giustizia non è altro che una pubblica merce. Di cosa vivrebbero cianlatani e tuffatori se non avessero un moneta sonante da accettare come andrà la gente. La linea orecchionale ci spinge verso l'opera. Mentre una gomma è giurrabia, da accettare come andrà la gente. Con le palpe prechiuse si fravede un parole che con il tempo e ci vuole pazienza si apre La linea orizzontale ci spingerebbe la montagna, quella ventità non solo spingerebbe La linea orizzontale ci spingerebbe la montagna, quella ventità non solo spingerebbe Ma quando ritorno in me, sulla mia via, a leggere e studiare Ascoltando i grandi del passato, mi basta una sonata di correnti perché mi meravigli del creato Grazie